Il fotoclub La Chimera apre le porte della sua sede sotto le loggie vasariane per la seconda edizione della mostra dei soci del club, un'iniziativa volta a valorizzare la sede che si trova in uno dei scorci più suggestivi della città e che proseguirà per tre settimane. Noi tutti abbiamo deciso di tenere aperto la nostra sede sotto le loggie per tutte le fiene antiquarie e le tre settimane successive. Questa volta abbiamo fatto la seconda parte della mostra collettiva dei soci del fotoclub perché abbiamo partecipato complessivamente in 23 soci su 38 iscritti, per cui è una buona percentuale, molto probabilmente chi è mancato si presenterà le prossime edizioni. Il programma naturalmente questo mese è particolarmente impegnativo perché il 24 di aprile abbiamo la foto antiquaria, la 61esima foto antiquaria, quindi sarà anche un evento abbastanza importante anche perché è collegato con la fiera antiquaria che c'è straordinaria che è il 25 aprile. In occasione della foto antiquaria e quindi anche della fiera antiquaria straordinaria e quella di maggio presenteremo una grande mostra di foto storiche di Arezzo, sono circa 100 foto che sono quelle che hanno aggiornato 100 anni in foto, il libro. La sede è aperta tutti i fini settimana, il sabato e la domenica con orario 10.30, 13, 16, 19 e 30. Grazie.